Ciao a tutti, schemi mentali e manipolazioni. In questo video voglio spiegarti quali sono gli schemi mentali che vengono utilizzati molto spesso nella manipolazione per indurre le persone a fare delle cose che magari non vorrebbero fare, quindi indurle ad agire come magari non vorrebbero agire. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo agli schemi mentali e alla manipolazione, come vengono utilizzati questi schemi mentali nella manipolazione. Allora, noi dobbiamo comprendere il fatto che le persone vivono di schemi, sono quotidianamente, diciamo, vivono quotidianamente, prendono delle azioni, delle decisioni utilizzando degli schemi comportamentali, degli schemi che sono schemi che spesso portano a errori, però noi utilizziamo perché ci rendono, diciamo, la vita più facile. Prendiamo delle decisioni automaticamente, sono schemi mentali che ci fanno abbandonare il ragionamento logico nella presa di una decisione. Ad esempio, possiamo fare degli acquisti sulla base degli schemi mentali, cioè il nostro cervello fondamentalmente crea delle scorciatoie per processare in modo più rapido, però questi processi rapidi spesso ci inducono in errore. E il bravo persuasore, ma direi anche il bravo manipolatore, è quello che sa utilizzare questi schemi mentali a suo vantaggio nella manipolazione fondamentalmente, perché durante la vita, durante la giornata, siamo bombardati quotidianamente da informazioni di vario tipo e siamo obbligati a processarle in modo accelerato, per prendere decisioni di volta in volta. Questo talvolta fa sì che il nostro cervello utilizzi questi schemi mentali. E questi schemi mentali possono, ad esempio, farci acquistare, nella venta sono utilizzate delle cose piuttosto che altre. Gli schemi mentali sono, diciamo, uno degli strumenti che viene più utilizzato dai pubblicisti, dai politici, diciamo, e dai marchettari, per così dire, delle aziende del tutto il mondo. Diciamo, nel marketing hanno usato, hanno iniziato a studiarli, cercando di capire come approfittare, appunto, di questi schemi per persuadere le persone, per coinvolgerle. Vediamo un attimino qualcuno di questi schemi. Uno è la prima impressione. Ecco, questo è uno schema mentale interessante, cioè tendiamo spesso a dare la preferenza a ciò che vediamo per primo. La nostra mente prende in considerazione le prime informazioni che riceve o che trova per prendere una decisione. Quindi, nel marketing, e questo è relazionato ai prezzi, il primo prezzo che una persona vede, ad esempio, è un fattore chiave che può influire poi sulla sua opinione. Ci fidiamo del primo dato che abbiamo a disposizione, fondamentalmente. Successivamente lo utilizziamo come dato base per prendere le decisioni. Per cui, se io ho un prodotto, ti propongo un prezzo, diciamo, il primo flash che ti mando è un prezzo alto, poi ti posso, diciamo, vendere a un prezzo più basso. Quindi, come dire, nel catalogo dei prezzi mostro prima quello più alto. Magari l'auto, quella pluri, iperaccessoriata, che non so, costa X, e poi però dopo io in realtà voglio venderti un'altra più economica, no? I prodotti premium, diciamo così, servono a, diciamo, a indurre la persona all'acquisto, anche quando probabilmente quella cosa che sta acquistando non gli interessa più di tanto. E poi un altro effetto è l'effetto ambiguità. L'effetto ambiguità cosa vuol dire? Acquistare qualcosa di nuovo spesso è rischioso, per cui le persone scelgono l'opzione più sicura. Questo è dovuto, diciamo, all'effetto ambiguità. Quindi ti presentano due prodotti, uno noto e uno non noto, tenderai ad acquistare quello noto. E poi c'è la riprova sociale, ad esempio. Questa è un'altra cosa molto importante che viene utilizzato, uno schema. Quello utilizzato anche nella seduzione. Quello che piace agli altri, se piace agli altri, deve essere buono, deve essere valido. Nella seduzione la riprova sociale è utilizzata moltissimo. Per fare acquistare le persone, o per fare, dire, acquistare la fiducia delle persone, per sedurle. Se una donna vede che è un uomo desiderato da tante donne, automaticamente lo troverà più interessante. Anche se poi magari di interessante non ha niente. Un altro schema mentale deriva dalla scala di Maslow è il bisogno di essere accettati da un gruppo, di far parte di un gruppo. Questo è un altro bisogno che spesso hanno le persone. Quindi se quel prodotto viene, diciamo, associato all'appartenenza ad un gruppo, spesso viene scelto. E poi un altro schema mentale è quello dell'approvazione delle credenze. Se tu hai uno, scopri quali sono le credenze della persona, siccome le credenze sono autoreferenziali, le persone cercano sempre di trovare delle conferme alle credenze, di proporare il prodotto, proporare te stesso, come una conferma della sua credenza. Quindi riuscire a scoprire le credenze delle persone nella seduzione, ma anche nella manipolazione, nella persuasione, è veramente importante. E poi un altro schema è l'effetto alone. Cioè noi associamo, ad esempio, nella seduzione, l'aspetto fisico al carattere o alla personalità. Un uomo elegante e distinto viene anche visto come più raffinato, per dire. Quindi l'utilizzo dell'effetto alone, una donna bionda, con gli occhi azzurri, sorridente, viene associata a una donna angelica, magari poi è perfida, diciamo così. Ecco, quindi sfruttare l'effetto alone è anche molto importante per riuscire a sedurre, a persuadere. Queste sono tutte, diciamo, sono tutte cose che servono, che vengono utilizzate per riuscire a coinvolgere, a persuadere le persone. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!